Tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Allora, post partita Milan-Lazio 0-0 Andata a semifinale dei Coppa Italia È stata la partita più brutta Che io abbia mai visto del Milan Perché abbiamo visto Milan talmente Scandaloso questa sera Che non è riuscito a fare un'azione Un'azione sacrosante Un'azione buona, un tiro recente in porta Scusate ma Sto male di gola Ma ragazzi c'è stasera Il Milan inguardabile La Lazio, se questa partita fosse finita 2-3-0 la Lazio non avrebbe per niente Negato appunto Questi gol perché il Milan questa sera Non c'è proprio entrata in campo Cioè per me stasera Si deve assolutamente fare gol perché eri fuori casa Adesso al ritorno se quelli ti fanno un gol Devi assolutamente vincere Devi assolutamente vincere se quelli ti fanno un gol a San Siro Adesso il ritorno si giocherà Il 26 Il 26 aprile quindi Il 24 aprile quindi fra un mese E mi dispiace Perché alla fine questa partita Cioè per come ci siamo arrivati Per come eravamo arrivati dalle ultime partite Si potrà tranquillamente vincere Una Lazio non Una Lazio non così in forma Perché appunto era l'uscita dell'Europa League Aveva perso col Genoa Forse ci siamo arrivati più salvi Forse questa sarà la mia impressione Perché comunque la Lazio Questa settimana non ha giocato Perché le è stata rinviata la partita E noi comunque abbiamo giocato Proprio venerdì Quindi secondo me Qualche sforzo fisico in più Secondo me rispetto alla Lazio L'abbiamo fatto E secondo me questo si è anche visto in campo Comunque migliori e peggiori Non ce ne sono forse il peggiore Suso Il peggiore Suso Mai visto in campo Veramente Suso è diventato Un giocatore anomalo per questa scuola Perché non sta facendo veramente più niente Sono deluso ma sono anche contento Perché la Lazio alla fine Poteva fare tranquillamente due tre gol Ha preso quel palo Vabbè Ha preso quel palo immobile Clamoroso Meno male che poi si è alzata la bandierina E la cosa più bella della partita È stata la nuova scena di Borini per Piontek Ecco Piontek per esempio stasera Non è stato servito una volta Non è stato Cioè l'unica palla che gli è stata servita a Piontek È stata la rovesciata di Borini Che era un tiro ma si è trasformata in un mezzo cross Che Cioè ragazzi stasera Cerbi su Piontek ha fatto una marcatura uomo Clamorosa Per me ha fatto una marcatura clamorosa Piontek Certo non dobbiamo dare colpa a lui Perché non è stato servito Non può segnare sempre lui In questa scuola Perché se segnerebbe sempre lui Non andremo mai in Champions Perché per andare in Champions E per passare questo turno di Coppa Italia Dovranno segnare tutti Dovremo giocare di squadra Spero che al ritorno Affronteremo la partita Con un altro ritmo Con un'altra mentalità Perché stasera Siamo stati veramente imbarazzanti Se l'avessimo persa La Lazio non avrebbe Proprio L'avrebbe meritata tranquillamente E certo che I giocatori della Lazio Siamo a terra in una linea di rigore Ogni volta Spingivano Cioè proprio Appena uno lo toccava Sempre a terra I giocatori della Lazio Siamo a chiedere il rigore Orsato a noi non ci ha fischiato un fallo Orsato a noi non ci ha fischiato un fallo Abbiamo avuto molti Potevamo avere molti calci di punizioni Dal limite Non ce n'ha fischiato uno Non ce n'ha fischiato uno Per poi non parlare di Orsato Che Sempre Orsato Che ci ha tolto due tre palloni Cioè noi passiamo la palla Orsato sempre di mezzo E una volta gli ha regalato Un contropiede a loro Cioè Orsato stasera Mi stava proprio sui coglioni Comunque Fatemi salvare questi commenti Io sono deluso Ma alla fine felice Perché appunto la Lazio non ha vinto Si doveva fare questo gol Fuori casa Però purtroppo non è arrivato E niente Io vi ringrazio un bel like Se al canale non ci vediamo un prossimo Bella Forza Milano